Special Bicycle è bellissima questa ne parlavamo ora con Manolito sono un connubio tra un chopper una bicicletta qua le facciamo vedere alla nostra camera una bicicletta con lo stile americano che per alcuni modelli può assomigliare a una motocicletta quindi gli amanti di moto che vogliono andare in bici con un certo stile prendono questo tipo di esempio qua ne abbiamo di tutti i tipi dalla Cruiser quindi la classica passeggio americana ai chopper ai chopper estremi è bellissimo a quelli addirittura fatti con un po' di bistriping lavori fatti da artisti di vecchie salte questa mi ricorda parecchio la mia infanzia qua c'era un cambio si che è su questa più piccolina eccolo bellissimo tre marce ancora funzionante roba e ti ricordi quelli erano i cambi che ci ricordavano le macchine le moto tutto che bellezza un cambio di quella catenella classico cambio centric catenella mini moto trasformiamo un po' di tutto moto da cross a chopper super veloci da 90 all'ora facciamo copie di moto prendi la moto una bicicletta con lo stesso stile cercando più o meno sono gli stessi accessori bene a questo punto aspetto la moto la bicicletta gara school è un progetto quella di Cien che stiamo cercando di riprodurre la sua cioè devi la Pascal l'abbiamo intervistata l'ha intervistata il nostro Roberto è un chopper che rappresenta la sua perché lei da questa moto non si staccherà mai quindi per cercare per cercare di rimanere nell'ambito del centro storico usa la bicicletta come si possa allora c'è la moto per la figlia di Roby assolutamente la facciamo per tutti per tutti i gusti è un custom quindi partiamo da un telaio e poi da lì è una bici custom e i prezzi ragazzi sono assolutamente accessibili allora niente ti frego subito perché ci costruirà la moto della gara school quindi quando ci vedrete in bicicletta a girare sono stati i nostri amici Special Bicycle sotto vedete il sito abbiamo trovato un nuovo club che si chiama i Rocket Boy beh sì perché ora sei entrato con i Rocket Boy presto entreremo sicuramente anche noi Roberto ovviamente per forza è un amico ragazzi continuiamo da Verona Roby continua il giro vuoi farlo in bici lo facciamo con la bici andiamo in bici vai facciamolo in bici vai Roby e mentre il nostro Roby viene in bicicletta abbiamo una prova vittoria vai e io vado a piedi ovviamente è bellissima riprendiamo per il nostro сейчас il nostro a a a